Giovanni Endrizzi, che in questo momento è capogruppo al Senato della Repubblica del Movimento 5 Stelle, eccoci qui dallo studiolo di Palazzo Madama. Buonasera Presidente anche a lei. Buonasera a voi. Qui in studio, docente di comunicazione politica e editorialista della stampa, il professor Massignano Panarari. Grazie professore di essere tornato a trovarci e a dialogare con noi. Allora, allora cominciamo con lei, Endrizzi, che la vicenda, prima ancora di quella catalana, sia scomoda e anche difficile da gestire per l'Unione Europea, è piuttosto evidente. Che cosa ne pensa, per tornare al nostro titolo della strategia dell'ex Presidente della Generalità catalana? Innanzitutto emerge un dato sconfortante, cioè che l'Europa, nata intorno a una moneta, come vigile dei traffici commerciali, è in drammatico ritardo nel definire principi e equilibri tra i popoli nelle nazioni che la compongono. Il secondo punto è che in una situazione di questo tipo si stanno determinando una serie di reazioni che inaspriscono il conflitto. Il fronte indipendentista catalano si è espanso, ha acquisito consensi in modo esponenziale, parallelamente alle misure di contrasto che sono adottate. La raccolta firme per l'abrogazione del nuovo Statuto, per esempio, è stato l'inizio dell'impennata del sentimento indipendentista, come pure le repressioni che abbiamo visto in TV. Il dialogo può essere, dentro la Spagna e dentro l'Europa, l'unica via di soluzione. Quali modifiche all'ossatura dovrebbero avverarsi perché vi piacesse questa legge di bilancio? Guardi, intanto diciamo una cosa, che questa manovra accompagna il PD alle elezioni. I tre quarti delle risorse vengono sterilizzate nel riparare i danni del Governo, cioè l'aumento dell'IVA che il Governo ha inopinatamente piazzato come clausola di salvaguardia. Parliamo di una tassa recessiva e regressiva, cioè che va a danno delle fasce più deboli e che attraverso i consumi penalizza le imprese. Il quarto che rimane viene disperso in una miriade di rivoli. Abbiamo ancora che si punta sui contratti a tutele crescenti. Quando abbiamo i dati dell'ultimo anno ci dimostrano che otto contratti su dieci sono stati precari. Abbiamo contrasto alla povertà solo briciole perché con una situazione di nove milioni di persone sotto la soglia di povertà relativa, quattro milioni e mezzo in povertà assoluta, di cui un milione e due bambini, dare 300 milioni solamente quando il Movimento 5 Stelle prevedeva investimenti nove volte maggiori è un'offesa alla povertà. La stessa cifra che peraltro il Governo stanzia per un prestito ponte ad Alitalia con l'unico scopo, lo ha detto il Ministro Calenda, di evitare turbolenze durante le elezioni a danno del PD. Se poi vogliamo ammetterci anche che l'eco bonus viene depotenziato quando doveva essere confermato e stabilizzato per dare alle imprese possibilità di programmazione economica e fare investimenti, allora veramente siamo molto delusi, bisognerebbe completamente rivoltarla. A questo punto Exos perché visto è stato riconfermato, è soddisfatto del suo impegno per quanto riguarda il futuro, ma anche di come definisce l'operato passato, siamo stati fermi e intensi? Assolutamente no, l'operato è sotto gli occhi di tutti, Visco andava rimosso. È stucchevole la manfrina tra Gentiloni e Renzi, dove Renzi che fino a ieri non ha avuto niente da eccepire, oggi si sveglia e chiede di sostituire Visco, ma forse dando di braccio a Gentiloni perché lo confermasse e vissarsi lui alla tutela dei risparmiatori italiani. In realtà le cose concrete dicono dove sta la vera volontà, va istituito un fondo di salvaguardia, di tutela per le vittime di queste truffe che stanno emergendo, malgrado i movimenti così a rilento della commissione di inchiesta parlamentare. D'altra parte con l'elezione di Casini a Presidente non ci si poteva aspettare altro. Noi abbiamo oggi come notizia principale la riapertura di un fascicolo a carico di Berlusconi e Dell'Utri sulle stragi di mafia del 92-93. Questa è la notizia principale e abbiamo un Presidente del Consiglio che si concentra, scusi, un segretario di partito già Presidente del Consiglio che si concentra invece su un tweet di una persona che lo ha scritto quasi due settimane fa, scusandosene immediatamente. Mentre non si preoccupa di Micari che in Sicilia sta appoggiando Musumeci, si è già dichiarato disponibile ad aiutarlo con condannati e inquisiti e arrestati dentro le sue liste. Io credo che ognuno si prenderà le responsabilità, certamente il tweet, ma vorrei dal PD forse qualcosina di diverso da questi commenti.